la popolarità stanca che l'avrebbe mai detto no no non è vero è che ho impostato la modalità lavoro non c'è più trego non c'è più trega manca luglio però se si vuole fare quello che sia in testa bisogna anche lavorare questa non è una filosofia di vita questa non è una filosofia questa non è un cumulo di idee non è una teoria non questa è applicazione sono applicazioni se vogliamo una tecnologia che abbiamo a disposizione da poter utilizzare per poter fare quello che veramente vogliamo la prima cosa da fare a decidere che cosa si vuole che cosa si vuole ottenere o che cosa si vuole sperimentare igor sibaldi ha inventato la tecnica dei 101 desideri che tutti gli scrivi e dopodiché mano a mano che che si realizzano li dai per fatti io non credo che servano 101 desideri credo che bisogna partire da un paio uno un paio e cose semplici all'inizio perché all'inizio bisogna accumulare magnetismo bisogna accumulare potere bisogna avere accumulare l'energia che ci dà quella attrazione verso le cose in cui in cui ci dirigiamo per cui impostare un paio di obiettivi fattibili molto semplice all'inizio perché così almeno incominci già a accumulare risultati perché sono i risultati che poi ti danno quella quella specie di attrazione verso le cose in cui vuoi in cui in cui vuoi riuscire dare delle priorità e e senza senza troppe 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 cose 101 desideri sono veramente troppi un paio un paio eccoli non ci sono dei limiti ti puoi mettere in tassa di fare quello che vuoi davvero quello che vuoi e nel limite però del fattibile nel limite del possibile nel limite del del realizzabile in termini legali burocratici e anche materiali perché faccio degli esempi estremi ma che almeno rendono l'idea non puoi diventare presidente americano anche se ti applichi tutta la magia che esiste tutta quella che vuoi perché se non sei nato in america però potrebbe te lo puoi togliere dalla testa non puoi essere alle maldive fra una settimana se c'hai vent'anni da scontare e non puoi andare sulla luna perché c'è tutto un percorso da fare per andare sulla luna questi sono i limiti che bisogna tenere a mente il rasto invece è tutto possibile è tutto possibile io non ho mai voluto diventare straricco oppure avere macchine di lusso io volevo quando che sono bambino che io voglio diventare libero potevo diventare modello potevo diventare calciatore io volevo diventare libero a me l'unica cosa che mi interessava era diventare libero essere libero fare quello che mi dice la testa viaggiare sperimentare conoscere condividere arricchire il mio bagaglio culturale arricchire il mio bagaglio esperienziale di vita non mi è mai interessato chissà che cosa io sono partito ho già detto veramente da tanto lontano però come dice jung chi non tocca l'inferno non arriva al paradiso per cui l'inferno l'abbiamo toccato ora non dico che sono in paradiso però insomma rispetto all'inferno sicuramente e per cui sapere che queste cose qua sono possibili sono facilmente anche abbastanza facilmente attuabili ci vuole ci vuole una conoscenza di base ci vuole un sistema e ci vuole della disciplina per portarlo avanti bisogna sapere che la realtà in cui viviamo è uno specchio del nostro mondo interiore il nostro mondo interiore riflette nella realtà circostante quello che noi vogliamo sperimentare per cui la cosa veramente importante è che tutto quello che si fa con queste tecniche comunque tutto quello che si cerca di fare lo si faccia al proprio assoluto individuale beneficio non mettete di mezzo agli altri non cercate di farlo sugli altri e state attenti se fate le cose insieme agli altri perché ci sono tre tipi di karma che ai quali noi siamo soggetti e sottoposti ma ce ne e ce ne sono due che noi possiamo gestire ma ce ne sono ce n'è un altro che noi non possiamo gestire che ha il karma degli altri e poi anche il karma del mondo il karma della società il karma della specie e quello non è nel nostro potere nel potere delle persone che sono qui e ormai è quello quindi non è che noi possiamo farci nulla però abbiamo potere sul nostro karma e sul karma di famiglia se tu hai intenzione di applicare le tecniche di applicare un certo tipo di modello di vita stai bene attento con chi lo fa e che crede in quello che state facendo perché può essere che c'è un karma familiare che la limita che lo limita può essere che c'è i suoi cavoli che che prima o poi risorgono c'ha i suoi c'ha tutte le sue cose da pagare c'è le cose quindi non cercate veramente di stare attenti con chi con chi agite mantenere il segreto non parlare con gli altri non raccontare agli altri che cosa si sta facendo non divulgare diffondere i propri obiettivi soprattutto se sono importanti per noi soprattutto se sono di difficoli di hanno un coefficiente di difficoltà a raggiungimento abbastanza elevato perché le persone possono influire negativamente se tu riveli agli altri quali sono i tuoi obiettivi i tuoi scopi rischi seriamente che loro compromettano la riuscita perché li rendi li rendi co creatori della tua realtà e possono influire negativamente anche se non te lo dicono ma col pensiero perché magari sono invidiosi perché magari non credono che ce la puoi fare perché magari non credono che sia una cosa che sia possibile perché magari non credono che quella cosa si può fare veramente perché magari non credono che quella cosa si deve fare così quindi in qualche modo finiscono per per deviarti per per mandare tutto a quindi è bene mantenere il segreto di fatti le società segrete i maghi la magia il mistero il segretismo è proprio dovuto al fatto di non rivelare agli altri due cose proprio oggi nel mondo dei social non rivelate i vostri obiettivi mai 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 e un altro motivo per mantenere il segreto è che quando tu hai l'intenzione di fare qualcosa hai l'intenzione di arrivare alla meta di crearti un obiettivo di fare quello che vuoi e questa intenzione deve rimanere tua deve rimanere una cosa sacra che tu mantieni dentro di te perché è una palla di energia enorme l'intenzione è un'energia potentissima accumulare la devi la devi coccolare la devi sviluppare non la devi disperdere perché se tu la racconti agli altri a questo quello voglio fare quello quell'altro lo disperdi lo sfumi si sfuma questa energia si disperde e così si disperdono anche le tue le tue potenzialità di raggiungere l'obiettivo massima segretezza non dite niente a nessuno fin che il gatto non è nel sacco non lo tirate fuori e quando lo tirate fuori perché il gatto è nel sacco la gente vi dirà come hai fatto non ce ne siamo ancora come fate magia magia e così come realmente succede così come realmente faccio io perlomeno da da svariati anni ed è anche divertente è divertente c'è una soddisfazione enorme poi alla fine quindi ricordatevi di queste prime cose ricordatevi che quando volete raggiungere un obiettivo la cosa più importante anche a che voi simuliate di aver già raggiunto l'obiettivo se voi volete una macchina simulati di averla già simulate ma credeteci veramente nel profondo credete veramente nel profondo che la macchina già possaggiata sotto casa pensate già comprateli già gli accessori che ci volete mettere dentro fate tutte le cose come se voi avesse già la macchina non dovete devo ancora prenderla ce l'avete già dopodiché usando queste tecniche vi si apriranno delle porte che vi condurranno ad avere quello che volete qualche uno vi chiamerà qualche uno troverete troverete delle persone che vi aiutano troverete delle persone che possono aiutare che vi possono indirizzare e ovviamente quando incominciate a vedere questi segnali queste porte le dovete cogliere questa è la cosa più importante una volta che tu hai stabilito che cosa vuoi fare tu ci devi andare ci deve andare di ratto in maniera audace in maniera senza tentennamenti senza senza paura soprattutto senza paura essere spregiudicati la freccia che va verso l'obiettivo senza perdersi senza cose cercate anche di mantenere una vita abbastanza pulita nel senso non distruggetevi di alcol non distruggetevi di cibo che fa schifo non distruggetevi di droghe cercate di essere lucidi centrati se avete già iniziato a fare della meditazione bene se non l'avete fatto iniziate se lo state facendo continuate cercate di centrarvi cercate di essere padroni del vostro pensiero cercate di poter indirizzare il pensiero verso dove volete e che le azioni siano conseguenti perché queste due cose insieme in sinergia creano quello che voi volete ricordatevi di simulare la realtà che volete manifestare perché il cervello non riconosce tra realtà simulata e realtà reale concreta anzi tende a dare più importanza alla realtà immaginata quindi se voi simulati di avere già ottenuto un risultato la realtà che ha uno specchio che ha configurata per essere da specchio per darti quello che tu emani si riconfigurerà secondo la tua nuova configurazione praticamente ti rifletterà il tuo nuovo stato interiore se tu ti credi ricco se tu ti credi strafigo se tu ti credi che hai cento macchine se tu ti credi che puoi viaggiare il mondo inizia a farlo inizia a credere che già l'hai fatto che lo stai facendo che sai veramente quello che volevi e la realtà te lo restituirà è programmata per essere così non può scappare da lì perché è programmata per essere così ricordatevi che ogni piccolo raggiungimento ogni piccolo successo verso il vostro raggiungimento della vostra meta deve essere marcato col pensiero lo dovete marcare tipo voi la macchina ti sei già messo d'accordo con qualcuno marcalo ricordatevi di marcare questa cosa che è avvenuta come un successo come può come uno step verso nella progressione verso il successo e quando è arrivata il successo celebratelo ricordatevi di celebrare i successi trasmettete alla realtà il fatto che voi siete contenti di questa cosa perché la realtà ve lo ridà ve lo ridà se voi siete sempre occupati che state sempre tristi la realtà vi farà vedere sempre più cose tristi se voi siete state felici se voi state bene la realtà vi farà sempre vedere più cose positive principio di polarità dell'ermetismo che poi farò un video ha dedicato a questo la pietra filosofale praticamente trasmutare il metallo in oro trasmutare le negatività in positività perché una cosa veramente importante che stravolge l'esistenza ci hanno insegnato a soffrire a lottare a stare giù fanno in tutti i modi per farci paura tutti i modi per per tenerci bassi in tutti i modi per tenerci sempre più stretti sempre più incattiviti sempre più avidi cercate di essere l'opposto di questa cosa qui e cercate veramente di manifestarlo comunque poi su questo ovviamente devo fare un video a parte perché un argomento molto 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 importante comunque ricordatevi sempre quando vi soprattutto all'inizio con incomincia cominciate a riconfigurare la realtà ci sono delle prima che si sintonizzi ci sono delle scosse vi possono succedere delle cose diciamo non del tutto piacevoli o quantomeno inaspettate sappiatelo e cercate di benedire queste 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 cose che accadono cercate di benedire la sfiga in generale in generale sempre ogni fatto negativo cercate di invertirla di capovolgerla di trasmutare ogni negatività in positività cercate di trovare un lato positivo qualunque esso sia inventatevelo questa esperienza mi aiuterà a capire qualche cosa altro di me che chissà che cosa imparerò tanto sono qua per imparare inventatevi un motivo per trovare una cosa positiva capovolgerete la situazione se le negatività sono molto frequenti nella vostra vita capovolgerete invertirete questa tendenza e vi arriveranno sempre più cose positive e non date importanza non date importanza a ciò che volete ottenere non ha importanza niente in generale cercate di essere sempre molto leggeri veramente molto leggeri perché più importanza ci date e più frenate le cose invece se siete leggeri se siete sedati lo se lo date per scontato se non arriva perché devi c'è un tot che dovete aspettare tranquillo tanto arriverà arriverà è scritto lo scelto nel supermercato della vita ho scelto quello che volevo e ce l'ho già ce l'ho già per cui non non date una crucialità mai alle cose non pensate che quelle cose devono essere fatte e fondamentali se non c'è questo errore perché l'unica cosa che otterrete è di rallentare il processo per cui non date mai importanza particolarmente a niente soprattutto ai vostri obiettivi e ricordatevi che siamo veramente in una specie di realtà simulata cercate di dirigere il vostro personaggio dove volete cercate di svegliarvi nel sogno cercate di svegliarvi davvero e di essere padroni della vostra esistenza dico ancora una cosa il cinematografo la realtà virtuale lo specchio i videogiochi non ce li siamo inventati sono strutture della realtà la realtà è strutturata in questa maniera e quindi noi l'abbiamo scoperte e dopo ci abbiamo abbiamo avuto un modo di accesso e ci siamo connessi a queste realtà qua il cinema lo specchio la realtà virtuale la realtà olografica eccetera eccetera sono cose che noi scopriamo perché sono elementi strutturali della realtà per cui veramente noi viviamo in un film e quindi veramente devi diventare il regista e il protagonista della tua vita il ricordo per i libri lascio la mia mail in descrizione mi potete scrivere per invio sono due per invio entrambi tanto non è che c'è la differenza di brazzo il brazzo lo dice niente voi perché è offerta libera io non mi voglio arricchire con la conoscenza non voglio vendere la conoscenza è semplicemente un fatto che siccome mi sono sbattuto a a trovarla a metterla insieme a scrivere un libro minimo di ricompensazione per una legge di equilibrio mi sembra quello perché mi erano anche proposto a case editrici di pubblicare eccetera però non è la mia intenzione innanzitutto arricchirmi con queste informazioni perché sono sacri e se conti si risveglia quel qualcosina no quindi anche anche se fosse solo questo il mio contributo sono contento di darlo sto evaporando vivo ragazzi ci aggiorniamo grazie per aver seguito grazie per seguire a la prossima a la prossima